desiderate avvicinarvi al mondo di l'orcana ma non sapete da quale articolo partire volete scoprire quale sarà il contenuto di ogni prodotto annunciato fino ad ora per comprendere quale tra di essi si adatterà maggiormente alle vostre esigenze e a livello di costo beneficio quale converrà acquistare nel video di oggi troverete la risposta a queste domande signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale il tcg più atteso di questo 2023 sta arrivando e con il passare dei giorni sempre più notizie ci sono state fornite per darci un quadro più dettagliato di cosa sarà l'orcana una volta che finalmente arriverà sui tavoli da gioco da quando ho iniziato a parlarne qui sul canale diversi di voi mi hanno chiesto informazioni a riguardo e attraverso una serie di tre video scopriremo in ordine quale prodotto converrà acquistare i vari colori presenti in questo gcc ed ultimo ma non per importanza le primissime sinergie che sono nate grazie agli spoiler mostrati in questi mesi dagli addetti ai lavori come già detto quindi quest'oggi esploreremo cosa conterrà ogni singolo articolo messo in mostra in questo tcg andando inoltre a prendere in considerazione a quale settore di pubblico si adatterà al meglio ognuno di loro collezionisti o giocatori prima di iniziare volevo invitarvi ad iscrivervi per voi è solamente un click per il canale invece molto importante in questo modo crescendo si riusciranno a portare contenuti sempre più interessanti e ricercati in più non dimenticatevi di seguirmi anche su instagram e la pagina facebook dove pubblicherò aggiornamenti riguardanti le varie uscite dei video e molto altro ancora troverete i link in descrizione grazie ancora in anticipo torniamo al video ed ora scopriamo assieme attraverso questa guida agli acquisti quale prodotto converrà pre acquistare per prepararsi al meglio all'arrivo di disney l'orcana andiamo a dargli un'occhiata i prodotti che potrete trovare attualmente in mercato saranno sei tre starter deck il booster box da 24 bustine il gif set e l'illuminer strove e sarà proprio in questo ordine che ne parleremo dato che sono più che certo i mazzi iniziali rappresenteranno il punto di partenza per molti giocatori che vorranno testare all'atto pratico le dinamiche di questo tcg il primo dei tre starter disponibili sul mercato vedrà vaiana fare coppia con topolino con i rispettivi inchiostri amber ed amethyst al suo interno si potrà trovare un deck composto da 60 elementi incluse le due carte di rarità foil che raffigureranno i protagonisti riportati sulla confezione 11 token che vi torneranno utili per segnalare i danni un segnalor un libretto delle regole un campo da gioco in cartone ed un pacchetto di espansione contenente ulteriori 12 carte casuali il secondo vedrà come protagonisti crudeli a demon con aladin appartenenti rispettivamente agli inchiostri emerald e ruby anche in questo articolo ci sarà tutto quello che potrete trovare nel primo ed il terzo che presenterà cenerentola e simba fare team con inchiostri sapphire e steel possiederà lo stesso contenuto sia del secondo che del primo l'unica cosa che cambierà ovviamente saranno le carte foil ed il mazzo ma per il resto saranno del tutto uguali passiamo quindi dopo aver visionato i tre starter all'articolo che vi consiglio di acquistare soprattutto se vorrete avere a disposizione tutte le armi per la costruzione del vostro mazzo ideale il box di l'orcana vi permetterà di mettere le mani sulla bellezza di 24 bustine contenenti a loro volta 12 carte ciascuna il primo set di questo tcg offrirà ad ogni nuovo giocatore tre booster pack dall'artwork diversa ritraente elsa topolino e malefica che potranno entrare a far parte delle collezioni di pacchetti più ricercate al loro interno le 12 carte saranno suddivise come segue sei comuni tre non comuni due rare super rare o leggendarie assortite randomicamente ed una carta foil con livello di rarità casuale in più oltre alle tipiche bustine sarà possibile recuperare anche i booster pack sleeved con confezione cartonata che potranno per i collezionisti essere esposti in un case di plexiglass o per chi gioca scoprirne le meraviglie al loro interno per chi invece non si accontenta la casa madre ha pensato ad un prodotto assai ricercato che offrirà ai fan più agguerriti del franchise una soluzione da veri intenditori il gift set vedrà un contenuto davvero interessante al suo interno infatti si potranno trovare 34 token che vi torneranno utili durante i match che affronterete due segnalor con sustampati i tratti dei due protagonisti dell'articolo ad il re dell'olimpo e mulan soldato imperiale quattro pacchetti di espansione due carte foil raffiguranti rispettivamente su ognuna l'eroina dell'omonimo film e l'antagonista principale di hercules giocabili nei deck che costruirete con le rispettive carte di dimensione jumbo anche qui con trattamento foil queste ultime piccola curiosità avranno una dimensione doppia rispetto al formato standard meraviglioso questo aspetto alla what if che vede il finale di un film avere un epilogo differente come nel caso di ade che in questo universo alternativo è riuscito nell'intento di conquistare l'olimpo grazie alla banda dei titani sua mostruosa ma non finisce qui perché oltre a questa chicca che sono sicuro interesserà molti di voi ci sarà un ultimo articolo da prendere seriamente in considerazione soprattutto se sarete dei collezionisti incalliti l'illuminer strobe è l'accessorio che ha maggiormente attirato la mia attenzione al suo interno ci sarà un assortimento di accessori che per gli appassionati del gioco risulteranno essere davvero un grande tesoro una volta aperta la confezione infatti vi ritroverete ad estrarre una scatola porta oggetti che a sua volta conterrà una guida del giocatore 8 bustine di espansione 2 deck box e 15 token di gioco questo articolo inoltre potrà ospitare diverse carte al suo interno diventando a tutti gli effetti uno storage box brandizzato l'orcana ed in più piccola curiosità per gli interessati la guida per il giocatore sarà un vero e proprio manuale dove saranno riportate sinergie tra carte consigli utili e tutto ciò che servirà per muovere al meglio i primi passi in questo tcg e quindi dopo una panoramica generale del contenuto dei sei prodotti disponibili e cosa conterranno scopriamo assieme il loro prezzo a quale categoria di clientela si adatterà al meglio giocatori o collezionisti e dove potrete acquistarli come per la presentazione partiamo anche qui con i tre starter deck il loro prezzo indicativo sarà di 19 euro e 90 singolo mazzo e rappresenteranno la scelta ideale per chi vorrà iniziare a muovere i primi passi nel mondo di l'orcana come giocatore per chi vorrà collezionare invece avere una copia di ciascuno naturalmente shield di certo non guasterà per il box il costo indicativo sarà di 144 euro mentre per il booster pack 6 euro ciascuno sia in versione tradizionale che con confezione cartonata per chiunque vorrà iniziare a testare diversi archetipi di deck questi articoli saranno le fondamenta dove si costruirà la propria esperienza di gioco acquisto più che consigliato quindi per tutti i nuovi illuminer non escludendo però minimamente i collezionisti che attraverso l'acquisto del box e il suo contenuto comprato ovviamente separatamente potranno iniziare a popolare gli scaffali della propria raccolta personale con il primo capitolo di questo gioco di carte collezionabili quindi anche qui consiglio l'acquisto di una singola copia sia del box che delle due versioni dei pacchetti rigorosamente da tenere chiusi il gift set invece avrà un costo indicativo di 30 euro e parere strettamente personale si adatterà più ad un pubblico di collezionisti che di giocatori infatti per chi vorrà iniziare a muovere i primi passi nell'illuminario qui non ci sarà un kit pronto all'uso ma solamente dei singoli articoli che se messi assieme andranno a fornire poche armi per poter iniziare ad accumulare punti lore al contrario invece il gift offrirà terreno fertile per chi colleziona procurando un pacchetto ben curato che se custodito a dovere magari in futuro potrà rappresentare anche un buon investimento quindi tenetelo d'occhio se apparterrete a quest'ultima categoria tutto quello che è stato trattato fino ad ora potrà essere reperibile su fantasia store dove inserendo il codice appena apparso in sovrimpressione potrete usufruire del 5 per cento di sconto alla cassa e se utilizzerete il referral link per gli acquisti aiuterete anche il canale a livello economico vi lascerò tutto in descrizione infine arriviamo al trove che avrà un costo indicativo di 50 euro questo accessorio sarà strettamente correlato ai collezionisti sia in termini di costo che di utilità infatti oltre alle bustine e alla guida che sono sicuro prima o poi verrà rilasciata anche in digitale altro di interessante per i giocatori soprattutto in erba non credo potrà esserci comunque non sarà un'esclusiva da collezionista e chi vorrà acquistarla magari giocando potrà sfruttare la scatola e tutto ciò che in essa sarà contenuto per avere un posto dedicato ai propri scambi o perché no al proprio o ai propri deck da competizione con tutto il necessario per giocare segnalini inclusi purtroppo si dice che non arriverà mai in italia e quindi dovrà essere acquistato da mercati esteri ed ecco a voi la panoramica completa di ogni singolo prodotto commercializzato dal tcg disney in arrivo questo settembre sui tavoli da gioco delle migliori fumetterie italiane l'orcana è a tutti gli effetti il gcc più atteso di questo 2023 e sono certo che soprattutto subito dopo l'uscita sul mercato assisteremo ad un assalto all'arma bianca quindi preordinate la vostra o le vostre copie personali e non lasciatevi sfuggire l'occasione di partire ai blocchi di partenza non appena topolino e compagni faranno la loro comparsa sotto forma di carte collezionabili e voi come affronterete al meglio l'arrivo di questo nuovo titolo come sempre fatemelo sapere nei commenti mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei tcg vi ringrazio di essere stati in mia compagnia noi ci vediamo al prossimo video a